Quinta edizione per il Belluno Kids Festival che da venerdì 1 a domenica 3 settembre tornerà a colorare la città con spettacoli, eventi di strada, laboratori creativo-educativi e parate. In due parole, condivisioni creative che puntano a portare a Belluno il meglio delle produzioni teatrali per l'infanzia e la gioventù. Tre giorni soltanto, ma tre giorni molto concentrati. Infatti in queste tre giornate si alterneranno più di 21 opportunità tra laboratori, performance e spettacoli. Da segnalare i tre spettacoli principali, lo spettacolo di apertura il 1 di settembre in Piazza Duomo con uno spettacolo di clown e magia, lo spettacolo evento del 2 di settembre che si terrà al Teatro Comunale, il titolo è Controvento e ci sarà un vero aereo montato in scena con Michele Cafaggi che è il mago internazionale delle boli di sapone e la domenica avremo invece uno spettacolo particolare, un silent play, quindi uno spettacolo completamente in silenzio dove i genitori e i figli con delle cuffie affronteranno il viaggio attraverso la fiaba del gatto con gli stivali. All'interno di tutti questi vari appuntamenti, eventi in Piazza dei Martili, a Lambioi, nei giardini Loris Stormen, insomma tante opportunità dai 18 mesi ai 12 anni. Oltre agli ormai consolidati partenariati con la Fondazione Teatri delle Dolomiti e il Comitato Provinciale di Unicef, il programma del Festival di quest'anno è anche frutto dell'incontro tra la Direzione Artistica e i suoi destinatari. Per la prima volta a Belluno è infatti dato il via al Family Board. È un gruppo di genitori che hanno volontariamente risposto ad una chiamata della Direzione Artistica e hanno affiancato la Direzione Artistica nella creazione del Festival. Perché? Perché mi sembrava importante ascoltare anche chi poi il Festival avrebbe vissuto. Un focus importante ci sarà su alcune realtà professionali del Veneto che dedicano il proprio lavoro al pubblico di famiglie, bambini e bambine. Tutto il programma su www.bellunokids.it Grazie a tutti.